La disciplina prevede al verificarsi di tre requisiti, la possibilità di qualificare i rendimenti percepiti da manager e amministratori, i proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi con diritti patrimoniali rafforzati, di qualificarli come rendite finanziarie e non come reddito lavoro dipendente. Quindi, in quanto rendite finanziarie, scontare l'imposta sostitutiva del 26%. Quali sono questi tre requisiti? Il primo requisito è che i manager e gli amministratori investino almeno l'1% del totale del commitment, quindi l'1% del totale degli investimenti effettuati da tutti gli altri investitori. Il secondo requisito è che il provento debba essere postergato a tutti gli altri proventi, nonché al capitale inizialmente investito da tutti gli altri investitori, nonché postergato al cosiddetto hard all rate, quindi all'investimento minimo che deve essere riconosciuto a tutti gli altri investitori. E il terzo requisito, l'holding period, il fatto che questi strumenti finanziari debbano essere detenuti per almeno 5 anni. Grazie a questa norma che introduce una presunzione legale, i rendimenti, i proventi si qualificano ipso jure come rendite finanziarie e non quindi come redditi del lavoro dipendente, perché il rischio poteva essere quello che questi tipi di rendimenti potessero qualificarsi come redditi del lavoro dipendente per i manager e gli amministratori delle società o dei veicoli di investimento. A proposito dei tre requisiti della presunzione legale ora citati, l'agenzia nei diversi interpelli ha perimetrato in modo più puntuale i tre requisiti stessi, ma ha anche detto che in assenza di uno dei tre requisiti ciò non comporta automaticamente l'applicazione IRPEF progressiva, ma è comunque possibile che il provento derivante dello strumento finanziario si qualifichi come rendita finanziaria tenendo conto delle singole caratteristiche concrete del piano.